L'abbondanza è un nostro diritto dalla nascita. Ora, se hai intenzione di cambiare, c'è solo un momento per farlo. Adesso, bisogna solo crederci. Devi crederci. Credi e la tua convinzione creerà il fatto. Se non c'è fede, non accadrà. Io posso metterti a disposizione la nostra attività moderna, estremamente ereditizia. Quest'idea cambierà il mondo, anzi, l'intera economia ha già cambiato la vita a centinaia di migliaia di persone in pochissimo tempo, ma la devi cogliere e ci devi credere. Quando ci credi, ti unisci all'idea, ti fondi con l'idea e questo fa accadere ogni genere di cose. Ora io scelgo di credere che tu voglia qualcosa. Nel tuo profondo c'è un sogno e quel sogno, di tanto in tanto, affiora la superficie della tua mente cosciente e quando lo fa, lo respingi rapidamente dicendo non posso farlo. La verità è che puoi farlo, semplicemente non sai come. E allora io ti offro non solo il mezzo, ma anche gli strumenti e l'appoggio necessario fino al raggiungimento del successo. È la tua occasione. Se rinunci, non ne avrai altre.